Rafforzare la rete di collaborazioni e sinergie con le officine e le carrozzerie del territorio in modo da offrire al cliente le migliori soluzioni nel post vendita cercando di garantire loro il massimo della qualità. Questo l'obiettivo dell'evento Parstable, il format ideato da Mercedes-Benz e che la concessionaria Rossi ha proposto quest'anno nella città di Arezzo dove ha un proprio showroom. L'esclusiva serata durante la quale la concessionaria Rossi si è potuta incontrare e confrontare con i suoi partner strategici locali è andata in scena nella splendida location della tenuta La Striscia Wire Resort. Il Parstable del 2022 è un evento costruito a quattro mani con Mercedes-Benz Italia e celebra il nostro legame con il territorio e con la provincia di Arezzo. Una serata con carrozzerie, officine, nostri partner con l'obiettivo di costruire un legame sempre più solido sulla base di un rapporto di fiducia, di collaborazione, cercando di costruire le basi per quella che è la collaborazione futura all'insegna delle nuove tecnologie e e di momenti anche di condivisione reciproca. È stata l'occasione per parlare di business, di nuovi scenari del mondo dell'auto, tecnologie di carrozzeria e di riparazione di officina. Un modo per legarci e rendere il nostro rapporto sempre più saldo come base per la costruzione del rapporto futuro.